La Lega ha tra virgolette imposto spada fino a un certo punto, perché in realtà io penso di poter avere la libertà di dire che un passo indietro la Lega l'avrebbe fatto se un certo nome fosse venuto fuori, che era il nome di Silli. Era un nome all'epoca, ora non più, di Forza Italia. In un certo senso è come se il centrodestra l'anno scorso avesse fatto un investimento, perché Silli è stato eletto anche con i voti di tutta la coalizione, a differenza di Erika. È la scelta che poi ha fatto Biffoni per vincere la città cinque anni fa.